In un momento così in difficoltà dell'Italia, in un momento di povertà, in un momento in cui c'è proprio questo divario tra il nord e il sud, recuperare questa storia significa permettere ai calabresi di rendersi conto quello che erano nel passato e quello che sono oggi? Come scrisse Tommaso Campanella, nella Città del Sol i giovani hanno bisogno di guardare delle figure importanti in modo che siano da stimolo per la crescita. Naturalmente Carlo di Borbone fu il re nostro tanto amato, come c'è scritto nei documenti, un soprano che cercò di risollevare un po' quella che era la situazione dopo il viceregnato spagnolo, era una società dal punto di vista economico al collasso. Lui cercò di fare delle iniziative importanti, ci riuscì o non ci riuscì. Tutto questo lo sto a metà, questo è un progetto a metà perché nel 1759 fu chiamato a Madrid per governare quel paese. Sindaco, ritorna la storia del passato, una storia che ci permette comunque di confrontarci con un'Italia oggi forse molto più debole di ieri? Assolutamente, bisogna effettivamente conoscere un pezzo di storia sconosciuta o un pezzo di storia poco trattata rispetto a quello che effettivamente si studia nei libri di storia, nei libri di scuola e deve essere portata a conoscenza di come si viveva prima per poter essere effettivamente, per poter affrontare meglio il futuro. La giornata di oggi proprio rappresenta questo, cioè noi andremo a parlare di un grande re, di Carlo III, cercando anche di legare le vicende successive poi della venuta di Mongiana. A Mongiana c'era una delle acciaierie, fonderie più grandi del meridione d'Italia, dove effettivamente ci lavoravano circa 1200 operai al tempo del Borbone. Quindi io porto un esempio di quello che effettivamente si sta facendo a Mongiana, di quello che è la nuova apertura di questo museo, che abbiamo aperto il MUFAR, Museo delle Reali Ferriere e Fabbrica d'Armi, e appunto per far conoscere un pezzo di storia sconosciuta della nostra Calabria e soprattutto dell'entroterra.